Buonasera e benvenuti in questo nuovo video sfida Hai la tingolimmunity? E' da tanto tempo che non riesci a provare dei brividi con l'ASMR? Beh, questo è il posto giusto Prova a concentrarti Inizia le lele, distenderti Rilassati, chiudi gli occhi E lasciati trasportare Tutto, tutto, tutto Incomincia a lasciarti sprofondare Ok? Lasciati sprofondare Tutto, tutto, tutto Grazie a tutti Chiudi gli occhi Prova ad immaginare Di essere In una foresta Senti il vento che Soffia Ti accarezza Ti accarezza dolcemente Ti senti accarezzare Senti il vento che ti entra tra le dita Ti fai massaggiare Lo accogli E ne senti il suo Beneficio Ti fai massaggiare 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 Grazie a tutti. 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 Yes, baby. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.